Una nuova scuola ecosostenibile grazie ai fondi PNRR. La rivoluzione green parte da Porto Torres, dove, entro due anni, l'edificio scolastico di Monte Angelo, intitolato a Don Antonio Sanna, verrà ricostruito con materiali naturali e alimentato con energie rinnovabili. L'amministrazione comunale avrà a disposizione 7 milioni di euro, per un'idea unica nell'isola. Un risultato per un progetto presentato questa mattina nella sala consigliare, ottenuto grazie all'instancabile lavoro dell'ufficio tecnico. Abbiamo deciso di investire in maniera sostanziale, tramite fondi comunali e tramite tutta una serie di possibilità che appunto il PNRR dà, sulla ristrutturazione delle scuole, perché crediamo fermamente che avere dei luoghi più accoglienti, più funzionali, moderni e dal punto di vista energetico indipendenti ed efficienti, possa contribuire ad abbattere quella che è la dispersione scolastica e ad offrire un'offerta formativa migliore ai nostri ragazzi. Scopo dell'intervento è avere una struttura nuova per 300 studenti con bassi costi di gestione. Sarà costituita da tre blocchi indipendenti, quindi uno relativo alle attività didattiche, aule e laboratori, la palestra e un auditorium. Verrà riqualificata anche tutta l'area circostante. Attualmente ci sono già due campetti, non necessita anche loro di manutenzioni. Verranno inclusi in questo progetto più ampio e ci permetterà appunto di vivere anche come comunità gli spazi della scuola anche al di là dell'orario scolastico. Intanto l'amministrazione comunale è già al lavoro per trovare la soluzione più adatta per trasferire gli studenti in un altro complesso durante il periodo dei necessari lavori.